Se non arriva... Se fa solamente 190-200 gradi non ce la fa. Ci sei? Si, vai. Girala dall'altra parte, scusa la bacchetta. Questa? No, non ce la fa, non ce la fa. P-tasto, se vuoi filmare ti faccio mettere in cilio il legno. Io volevo fare le infrarossi con un accendino. Qua è il punto. Si, ma non ce la fa. Ecco, se tienila così si, però tienila così. Ok, se tienila così un po' e qualche probita in più... vediamo per un altro video. ... ... ...